Palazzo Gotico apre le porte alla città per mostrare le eccellenze del territorio e per un appuntamento di gala. Oggi pomeriggio sarà proprio l'antico palazzo di Piazza Cavalli ad ospitare alle 17 la consegna del premio Coppa d'Oro che quest'anno va a braccetto con il Gutturnio Festival. Saliranno sul podio dell'evento organizzato dalla Camera di Commercio e dal Consorzio Salumi Tipici Piacentini Diana Bracco, presidente di Expo Milano 2015, Benito Benedini, presidente del Sole 24 Ore e lo chef Gualtiero Marchesi. Sono questi i tre premiati dell'edizione 2013 della manifestazione sotto il segno di Expo 2015 personaggi di grande spicco che saranno anche protagonisti della tavola rotonda la cultura alimentare e della qualità, i segni dell'identità e della tradizione locale a cui parteciperà Silvio Ferrari, coordinatore del progetto Piacenza per Expo 2015. La chermessa è partita ieri pomeriggio con l'aperitivo Converdi nella speciale bottega dei Sapori d'Op allestita per l'occasione sotto i portici di Piazza Cavalli. Oggi, prevista anche l'assegnazione del premio qualità Gutturnio Frezzante 2013, domani e domenica i visitatori potranno entrare nello splendido salone di Palazzo Gotico dove una quarantina di cantine daranno vita a degustazioni di vini autoctoni. L'ingresso è libero e consente di ammirare il palazzo costruito alla fine del XIII secolo. In programma anche la vendita di prodotti tipici piacentini nella bottega dei Sapori d'Op sotto i portici. Degustazioni guidate da sommelier professionisti di vini in abbinamento con i salumi tipici sono previste nella sala Cattivelli di Palazzo Mercanti.